Vedete che a sinistra si sta creando la struttura, parte 1, understanding ingredients, healthy substitutions e portion control e meal planning, 3 sottocapitoli. Se è identica cosa, qua sono già segnati nella struttura, lo fate anche qui, breakfast, lo faccio vedere solo con questa e poi dopo facciamo un capitoletto, è un eating 2. Questo però, le ricette, ragazzi, sono un eating 3, un capitolo di terzo livello. Idem, anche qui, e Idem, anche qui, ok? Adesso vediamo tutti i font differenti, quello che poi alla fine farete, seleziona tutto e vi scegliete un font. Facciamo per esempio Garamon, Garamon va bene per i libri, ok? Vedete com'è già più bello? Bene, abbiamo ora introduction, facciamo update eating 1 to match e vedete che ha portato tutti. Ogni capitolo andrà sempre a pagina nuova, attenzione di pagina. Come si fanno? Prima di part 3, command più invio, oppure dovrebbe essere su Windows, control più invio. Ve lo cercate, ok? Abbiamo, ragazzi, la struttura del libro. Qui, Idem, farete i capitoli, adesso non vi sto a fare tutta la struttura del libro. Dobbiamo fare però adesso il capitolo. Quindi facciamo copia e torniamo su chargpt. Aspettate un secondo. E rieccoci, stiamo tornando su chargpt. Quello che noi gli diremo, vi ho fatto copia e incolla, expand the chapter, due punti, questo è già un buon modo per sviluppare il capitolo, ok? Overview of diabetes, introduction to diabetes, diabetes is a chronic condition that affects how your body turns food into energy, eccetera, eccetera, eccetera. Quando ci ha scritto questo capitolo, molto semplicemente quello che faremo sa copiare e incollare e ce lo riporteremo nella nostra schermata a fianco, che adesso vi faccio vedere, faremo questi salti per questa fase di schermate, quindi non è proprio automatico come sistema più che altro per farlo vedere a voi, però quello che faremo adesso è semplicemente quello di creare quindi il capitolo. Ok, diamogli tempo di finire, ok? Se usate Firefox funziona un pochino meglio questo lavoro del copia e incolla, se no va bene anche Chrome e poi vi fate la formatazione, ok? Ha finito il capitolo, di solito ha sempre questa struttura che poi noi possiamo modificare chiaramente per non farla proprio uguale a come ce lo faccio a chargpt. Ok, quindi copiamo e amici, amici miei belli, adesso torniamo un attimino a ricondividere il nostro libro. Ok, ritorniamo di qua, overview of Diabets, ok? Questo è il capitolo, copiamo e incolliamo, ok? Vedete c'è ancora lo sfondo nero, ce lo prendiamo, abbiamo già fatto il primo sotto capitolo, quindi command più il pulsantino che c'è al fianco numero uno, ed eccoci qua. Introduction to Diabets, eccetera, 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 ok? Qui togliamo magari questi punti, ok? Questi bullet point che c'erano a fianco, overview of Diabets, quindi questo qui rimane introduction, come capitolo, capitolo principale del libro, sotto capitolo, e poi abbiamo tutto il libro sviluppato, quindi ancora facciamo selezione tutto, command A, portiamo con Garamond, e guardate come cambia tutto il discorso, bene, ci siamo, qui lo vogliamo togliere grigio, lo mettiamo nero, va bene, facciamo copia, scusate, seleziona tutto, portiamo tutto nero, se vogliamo abbellire un po' la formattazione, quello che farete sarà prendere i vari sotto capitoli e farli diventare in grassetto, quindi command B oppure selezionate la B. Ok? Abbiamo fatto il nostro capitolo, qui conclusion, possiamo togliere, e basta. Qui c'è benefit of art frying for Diabets, si fa allo stesso identico modo, questi qui sono gli altri due sotto capitoli, vedete che lui già come struttura li vede come heading 3, questi qui, the role, anzi come heading 4, però siccome non rimane ordinato, noi li porteremo come heading 3. apply, ce lo fa in questo modo, che non ci piace, quindi lo faremo diventare anche questo Garamond, grassetto, e facciamo update heading 3 to match, cioè praticamente non sta facendo niente, siamo solamente abbellendo l'interno, se lo vogliamo fare da soli. Se hai sentito che cosa, la faremo qui, copia e incolla, andiamo su certi GPT, expand chapter, e lui ci scriverà il capitolo, copiate e incollate, gli idea me lo fate qui, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, ragazzi, nel giro di 15 minuti, 20 minuti, le ricette vere e proprie, ce le dà già GPT o le troviamo in altre fonti? No, ragazzi, le faccio a GPT, ok? Nel corso creduto ve lo spiego, ve lo faccio rivedere, mettiamo caso che dobbiamo fare vegetable e il cheese frittata, ok? Torniamo su già GPT, e poi diciamo che possiamo dare per archiviata la questione delle ricette. E diciamo, write, no wrote, write the, lo vedete c'è GPT, adesso ve lo ricondivido, eccolo, diciamo write the recipe, e la mettiamo tra virgolette, ok? For the book, diabetic, air fryer, cookbook for beginners, se non ci voglio di mettere le maiuscole, ok? The book is, anzi, was made for diabetics, ok? Ricordiamogli che il libro è per diabetici, perché se lui non dovesse perdere memoria, tra virgolette non dovrebbe, noi gli ricordiamo che quando mette giù questa ricetta, deve essere fatta per diabetici, ok? Not include food, not allowed for diabetic, ragazzi non vi spaventate per l'inglese, andate su Dipl, scrivete l'italiano e poi ve lo traducete in inglese, siete tedeschi, scrivetelo in inglese e poi ve lo traducete in inglese, siete spagnoli, scrivetelo in spagnolo, traducetelo in inglese, il prompt. Don't include food, not allowed for diabetic, va bene così, ok? Write also, nutri, sean facts, per esempio, tutto quello che volete, pure, write serving size, portion, portions, e poi che cos'altro vogliamo mettere? E cooking time, quello che volete, glielo chiedete, quindi scrivila e lui ci scriverà adesso la ricetta, vediamo che cosa ci scrive. Ci fa anche un overview della ricetta, se la volete la includete, se non la togliete. This individual size, quindi questa è una ricetta per l'individuo. Individual size frittata, perfect for quick breakfast or light lunch, packed with vegetables and topped with sprinkle of cheese, quindi una sgrattugiata di formaggio. Abbiamo praticamente adesso i nostri serving, cooking time, portion size, una frittata per serving, questa è una frittatina, non quelle grosse, no, come le intendiamo noi. Ingredienti, instruction, abbiamo fondamentalmente Sabrina la nostra ricetta, quindi ce la sta scrivendo il nostro bel chat GPT. Nutrition Facts per serving, poi ragazzi se non vi fidate di Nutrition Facts che vi dà CharGPT, ci sono vari tool online per fare il check dei valori nutrizionali, quindi...